Ronda numero 1 dal Lazio, coppia 151, Peter Manchia e Vanessa Presutti, che hanno vinto ieri la categoria Open del Metropolitano Tango Italia. Dall'Emilia Romagna, coppia 101, Massimo Giarola e Michela Conti. Dalla Lombardia, coppia 125, Mirko Giordani e Roberta Ilaria Scala. E ancora dalla Lombardia, coppia 154, Federico Serana e Rita Protopapa. Dall'Emilia Romagna, coppia 131, Cristian Mignardi e Giovanna Mannella. Dal Friuli, Venezia e Giulia, coppia 102, Andrea Bojan e Alessandra Comino. Dal Lazio, coppia 146, Roberto Rossi e Giorgia Vardaro. Dall'Abruzzo, 114, Matteo Faricciotti e Michela Toro. E chiude questa prima ronda, la coppia 109, dall'Emilia Romagna, Cristiano Ferri e Manuela Lolli. Dall'Emilia Romagna, catalana parola, La Ch kana Eigenti e Michela Toro. E chiude questa prima ronda, ciude questa prima ronda, chiude questa prima ronda, perché prima ronda, all'émilia气 come vrebbe per met me, st 1600 anni e magarioteres in alto, con lauschia flotta organe, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.